signore signori cani gatti e esseri vertebrati tutti buonasera sono lieto di comunicarvi che a pano è nata l'associazione di promozione sociale collettivo republic la quale sta promuovendo un progetto di partecipazione giovanile rivolto a ragazze e ragazzi dai 16 e 35 anni denominato generazione republic tra le varie iniziative avremo quattro bandi di concorso che comprendono due concorsi fotografici un concorso per disegnatori e un concorso di idee tutti i bandi scadranno il 15 giugno 2014 e per il vincitore di ognuno è previsto un premio di 500 euro inoltre tra le varie iniziative verranno realizzate un laboratorio di cooperazione uno sketch color urbano riqualificazione di spazi urbani un allecat e molto altro ancora infine il 4 5 e 6 luglio 2014 ci sarà pincio republic ovviamente al pincio di fano e presto tante iniziative novità seguiteci su republic.it re-public.it ciao ciao tutte le informazioni sul progetto e sulle attività adesso legate sono disponibili sul sito re-public.it e sulla pagina di facebook re-public per approfondimenti possono essere richiesto informazioni a info.it re-public.it il collettivo republic associazione di promozione sociale è aperto a chi dunque voglia aderire all'associazione diventandone socio ricordiamo che republic si scrive re-public